Auguri a tutti quanti carissimi amici, spero che vi abbiate passato veramente un bel capodanno e che vi siate risvegliati tutti in forma e pieni di buoni propositi. Quello che vi voglio augurare in particolare è questo, ovvero la forza, il numero 11 dei tarocchi che rappresenta che cosa? Il nuovo inizio, vi auguro un nuovo inizio. Perché il numero 11? Il numero 11 prima di sé ha 10 numeri di esperienza e il nuovo inizio, l'11 nei tarocchi corrisponde all'1, che sono i due inizi, però l'11 a differenza dell'1 vuol dire nuovo inizio ad un livello superiore, cioè un inizio carico e ricco delle esperienze che ci hanno permesso di arrivare fino al numero 11, quindi di 10 numeri prima, 10 fasi della vita precedenti. Quindi qualsiasi esso sia vi auguro veramente un nuovo inizio, un miglioramento a un livello superiore, un upgrade o uno sviluppo della vostra vita, un improvement del vostro livello di vita in ogni settore o quello che più pensate voi sia di gradimento, diciamo. Una cosa utile, se vi posso dare un consiglio anche, al capodanno è utile fare un poco di quello che tendenzialmente vorreste poi sviluppare durante l'anno. Cioè, non so, ad esempio, se uno decide di diventare un pittore, incominciare a disegnare qualcosa. Questo si può estendere a tutti quanti i settori, può essere anche, ad esempio, se uno decide di diventare, non so, un compositore, iniziare a scrivere una melodia. Qualsiasi cosa, in qualsiasi ambito, farne un pochettino, come dare un seme in là poi a una cosa che svilupperete durante l'anno. Perché il primo, insomma, comunque l'inizio è simbolico, cioè se voi mettete come dei germogli adesso dei semi qua, piantate dei piccoli semi, poi si svilupperanno naturalmente durante l'anno. Questo è quello che farò io, oggi, in tutte le cose, insomma, ne farò un po' di tutto. È un'abitudine che faccio tutti quanti gli anni e devo dire che è anche un segnale forte che voi date a voi stessi. Capito? È come una riprogrammazione che fate. È come dire, oggi mi programmo in questo modo e poi non ci dovete più pensare, nel senso, andate un po' in automatico. Per me quest'anno poi inizierà abbastanza bene col botto perché debutterò in Giappone come direttore d'orchestra, in una, adesso non ho qui, la locandina, nel Kawasaki Musa Hall, che è un teatro bellissimo, gigantesco, 1500 posti, bellissimo, dove dirigerò un'orchestra metà giapponese e metà cinese per il capodanno cinese. Quindi farò un altro festeggiamento il 13 di gennaio. Partirò a breve, sarò là. E quindi non vedo l'ora di questa cosa, di questa esperienza e ripeterò tutti i festeggiamenti là, praticamente. Che poi loro festeggiano sempre molto in grande, tra l'altro. Che altro dirvi? Niente, state positivi, fatevi una risata anche, una risata finta, ma fatela perché sono tutti i messaggi che date a voi stessi proprio durante quest'anno. Fate tutto quello che vorreste fare, un pochettino di tutto. E noi ci vediamo presto. Ah, l'altra cosa che volevo dirvi, mi stavo dimenticando che è molto importante, in questi ultimi giorni in particolar modo, sono stato un po' assente perché sto lavorando a un progetto, non sto lavorando adesso, è da un anno che sto lavorando su questo progetto, al quale tengo tantissimo, che non voglio svelare, però sappiate che praticamente c'è tutto me stesso dentro. e diciamo che il 30 dicembre, cioè l'altro ieri, ho dato una buona, una piccola parte di questo progetto è andato, cioè è stata fatta praticamente. E siccome non è ancora finito non svelo niente e siccome è un work in progress, fino a quando non l'ho completamente in mano e posso finalmente condividerlo con voi, insomma allora lì sarà il momento di dirlo. Sappiate solo che la mia promessa sarà questa che voglio stupirvi. Quindi il mio proposito di quest'anno sarà quello di stupirvi e vediamo se riuscirò oppure no. Quindi vi abbraccio tantissimo e divertitevi anche oggi, riposatevi magari un po' fate tutto quanto come vi ho detto, come vi ho consigliato ovviamente e poi vi farò un po' di video direttamente dal Giappone che a breve parto. quindi tantissimi abbracci ancora, grazie dell'attenzione e a presto per i prossimi video. Ciao!